Con Alessandra Lanciotti, direttrice artistica dell'undicesima edizione di Battiti, rassegna internazionale di Circo Teatro. A Roma, Teatro Fulio Camillo, dall'8 novembre al 1 dicembre 2024, ben trovata. Grazie mille, è già tutto tutto, allora ciao, ci vediamo la prossima volta. E' una rassegna di Circo Contemporaneo e Teatro di Contaminazione, che nasce nel lontano 2013 per dare spazio a una tipologia di spettacoli che all'epoca non era molto diffusa, adesso un po' di più, però sicuramente all'epoca non aveva voce in capitolo. E quindi abbiamo sentito l'esigenza di dare spazio a questo tipo di forma espressiva, che permette di raggiungere tipi di pubblico diverso, chiaramente, perché essendo più immediato, più fisico, permette di veicolare anche dei messaggi, delle informazioni, anche a persone che magari sono un pochino più le frattarie a venire al teatro, di solito. Come si caratterizza questa edizione? Questa edizione è molto buffa, nel senso che ci sono molti spettacoli divertenti, diversi spettacoli di clownerie e quindi è all'impronta del divertimento e della leggerezza più di altre edizioni. Quanti sono gli appuntamenti in programma? Sono 12 appuntamenti, in realtà sarebbero un po' di più perché ci sono anche le domeniche mattina, però sono 12 giornate, perché la domenica mattina ci sono spettacoli dedicate a famiglie e bambini. Quindi venerdì, sabato e domenica ci sono spettacoli per tutti quanti, la domenica mattina sono invece più indirizzati ai bimbi. Ci sono più repliche per ogni spettacolo? No, bisogna cogliere l'attimo, perché è una rassegna in cui ogni spettacolo viene portato in scena una volta sola, proprio per dare più spazio a più spettacoli differenti. Essendo nell'arco di un mese, la possibilità di vedere più spettacoli era data dal fatto di ripetere ogni spettacolo una singolità soltanto, quindi bisogna essere veloci nel prenotare, anche perché già da adesso alcuni spettacoli sono quasi già esauriti. Uno è il cabaret, che è lo spettacolo di apertura di questa settimana, che in tutte le edizioni di Battiti ha come apertura il cabaret fatto dalla compagnia della settimana dopo, ed è collettivo appunto del cabaret, ed è già quasi tutto esaurito. I riferimenti web per il programma? C'è un sito dedicato che si chiama rassegnabattiti.it, altrimenti anche sul sito del Teatro Furio Camillo c'è un rimando al sito della rassegna. Ci sono tutte le spiegazioni, le foto, i video di presentazione degli spettacoli, così anche per darsi un'idea di che cosa si vuole andare a vedere. Undicesima edizione di Battiti, rassegna internazionale di circoteatro a Roma, Teatro Furio Camillo, dall'8 novembre al 1 dicembre 2024. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Alessandra Lanciotti. Alla prossima! Grazie a voi, alla prossima, ciao!